Siamo qui in un sito spettacolare, siamo alle cave di Cusa, una pietra miliare nella storia dell'umanità. Si possono vedere le colonne che venivano estratte da questa cava e poi portate ai tempi di Serinunte ed è un posto direi quasi magico, incantevole perché è stato fotografato come se questa fosse una fotografia di come era nel 409 a.C. quando gli operai che lavoravano a queste colonne sono tutti scappare via perché arrivavano i cartaginesi. Così è rimasto un posto incantevole eppure se vi guardate intorno, io ho fatto un giro, non c'è un turista, non c'è nessun servizio, non c'è nessuno. Nessuno conosce davvero le cave di Cusa che pure è una risorsa così straordinaria e poi se vi guardate intorno trovate cartacce, rifiuti, qualcuno ha fatto qualche incontro qui e ha lasciato tutto in disordine e nessuno ha ripulito. Bene, anche da qui, da questa gemma sporcata deve ripartire il cambiamento di Campobello, ripulirlo, rilanciarlo, farlo conoscere, far avvenire i turisti. Questo è il, quando dico Cambiamo Campobello per portare turismo, ricchezza, lavoro, dare opportunità ai giovani proprio nel mondo del turismo. Dalle cave di Cusa bisogna ripartire per rilanciare il turismo. C'è già una proposta che le cave di Cusa siano inserite come patrimonio universale dell'UNESCO e su questo mi impegnerò se verrò eletto sindaco.